eccoci qua argomento allora di questa volta è il taglio cesareo dolce che per spiegarlo bisogna prima capire un po di base sul cos'è e come si fa un cesareo giusto per capire anche le differenze come sempre ricordo a tutti questi video sono rivolti ad un pubblico che non ha niente a che fare con medicina per cui il mio scopo non è spiegarlo a colleghi medici ma spiegarlo a gente che non ha a che fare con la medicina per cui non cerco di non usare terminologia medica o cerco di semplificare un po le cose che sono tra noi medici molto più banale alcune volte allora partiamo un po con le spiegazioni prima di tutto bisogna capire come si fa un cesareo e il cesareo cioè l'estrazione del bambino tramite la pancia della mamma significa che bisogna incidere per prima cosa l'addome ok ma dove si incide questo addome allora ci sono i vari esperti che hanno descritto le varie tecniche che hanno descritto ognuno la sua tecnica per esempio esisteva chi incideva longitudinalmente per cui un taglio verticale antiesterico da schifo proprio eppure su alcuni paesi rimane ancora un metodo da poterlo fare esiste il esiste poi quello che faceva come il pube due centimetri sopra il pube esiste che lo faceva quattro centimetri sopra il pube esiste chi lo faceva ancora più in alto tra i più comunemente usati quello che facciamo quasi sempre tutti noi e la incisione secodo fanestil si chiama è questo esperto che ha detto guardate per essere meno antiestetico cerchiamo di fare un taglio più basso possibile per cui si preferisce fare questo iniziale taglio due centimetri sopra il pube in modo che come dice una mia collega perfino se portate il perigioma inguinale non si veda il taglio ok certo che non sempre si riesce a fare una ferita poi esteticamente bella però di solito si cerca allora di fare questa incisione secondo fanestil da lì e poi tra i vari e le varie persone che hanno descritto le varie tecniche quello che facciamo comunemente ai cesare la maggior parte di noi ginecologi è quello che si chiama stark e questo spesso volentieri lo trovo su internet come ecco lo stark è il metodo del cesare o dolce piano non c'entra nulla una con l'altro la tecnica con cui io apro per arrivare al bambino per tirarlo fuori in questo caso io io ma come tutti i colleghi in tutti gli ospedali ormai la preferita di tutti è la tecnica stark non è il cesare o dolce ma il cesare o dolce spesso utilizza il metodo stark per tirare fuori il bambino per cui se vi dicono che noi su questo ospedale facciamo la star per cui facciamo il cesare o dolce non hanno capito cos'è il cesare o dolce stark vuol dire che era uno degli esperti che semplicemente per aprire la pancia per arrivare dentro al bambino usava meno passaggi possibili e di conseguenza si preferiva fare quello per cui va molto veloce quando poi doveva chiudere la pancia la donna cercava cioè ha avuto il concetto di dire scusatemi cerco di fare in fretta le cose per cui chiudiamo velocemente i strati se uno strato non mi serve non mi serve unirlo non serve suturarlo perché si ripara da solo inutile perdere tempo per quello per cui facciamolo cioè non facciamolo scusatemi non suturiamolo è così i vari strati si fa allora è uno dei metodi che più rapidamente arrivi al bambino poi cerchi non usare tagli con distro con forbici tranne lo stretto necessario in modo da non avere tagli ma con le mani a larghi strati in modo da fare sia velocemente ma anche per ridurre le perdite di sangue questo è il metodo che usiamo quasi tutti di noi dappertutto per cui almeno io qui a Verona non conosco uno che non fa questa tecnica praticamente ovviamente lo stark allora cosa fa usa questo ma per incidere la strato iniziale per la pancia usa la panestil per entrare dentro la pancia di solito altrimenti qualcuno che vuole stare più in alto sta tagliando cioè fa il taglio iniziale in altre maniere ma comunque rimane un incisario secondo stark e poi da lì e poi qualcuno può modificare leggermente la tecnica in base a quello che gli serve cioè se a me alla fine tirando con le mani faccio fatica e mi aiuto con una forbice non vuol dire che non ho fatto lo stark vuol dire che ho modificato leggermente quel momento della mia incisione allora ho fatto questa precisazione perché appunto bisogna essere chiari che stark è quello che ha descritto questa tecnica di cesareo che è utilizzato durante il cesareo dolce ma che da solo non vuol dire che è un cesareo dolce cos'è allora questo cesareo dolce perché lo continuiamo a chiamare cesareo dolce? il cesareo dolce varia dal concetto del cesareo stesso allora il cesareo normalmente significa che la donna è entrata in sala operatoria si fa un'anestesia leonco regionale per cui non viene addormentata e l'operatore esegue l'intervento esce fuori il bambino magari lo fa un attimino vedere la mamma tagliamo il cordone lo diamo ai neonatologi lo controllano lo fanno vedere la mamma lo portano fuori a pesare sistemare gli ospedali più moderni hanno anche il pelle a pelle per cui lo attacchiamo al seno della mamma lo lasciamo lì poi lo facciamo vedere al papà e ok tutto bene torna la mamma in stanza stanno ok insieme tutti e tre e basta questo è quello che attualmente avviene nella maggior parte degli ospedali cos'è allora che cambia? è quello che fa la differenza rispetto al cesareo dolce fin qui è tutto a posto quello che cambia è che papà e mamma sono insieme entrano insieme in ospedale aspettano il momento del cesareo a questo punto al momento che arriva l'ora del cesareo viene accompagnata il papà rimane lì fuori un attimino della sala la signora entra in sala operatoria l'anestesista fa il suo lavoro mette i suoi sondini è pronta quando tutto è pronto entra dentro anche il papà papà e mamma stanno a fianco a fianco praticamente la mamma è sdraiata sul letto operatorio il papà è a fianco l'anestesista è lì a fianco l'operatore e gli operatori che devono fare il cesareo sono di fronte allora c'è un tello che li separa per cui non è che entrambi stanno guardando mentre l'operatore sta facendo il cesareo ma al momento che deve nascere il bambino qui comincia la vera differenza e se fuori la testa del bambino allora abbassiamo questo tello in modo che il bambino un attimino loro possono vedere il bambino uscire dalla pancia della mamma ovviamente non è che vedi dettagli di sangue assolutamente nulla io le vedo le volte che le abbiamo fatto si vede la testolina del bambino che è lì fuori e aspetti non tira l'operatore subito il bambino tira fuori e basta così ma usiamo un po' di ossitocina in modo da farlo uscire lentamente a che vantaggio? questa uscita più lenta ha il vantaggio di aiutare il bambino ad adattarsi meglio alla realtà al mondo esterno e al respiro suo ad essere di andare molto meglio rispetto al brusco uscire che facciamo sempre sui cesari allora ecco perché dico allora esce il bambino pian pianino esce fuori a quel punto l'operatore lo prende lo apposa subito sul seno della mamma il bambino è ancora attaccato col cordone ma entrambi mamma e papà sono lì che stanno guardando il loro figlio sul petto della mamma da lì e poi entra l'onatologo gli dà un'occhiata mentre lì attaccato al seno della mamma lo controlla un attimino se vede che tutto va bene allora siamo a posto passando il primo minuto possiamo tagliare il cordone ombelicale e allora rimettiamo il telo nostro davanti in modo che noi poi proseguiamo a fare la chiusura della pancia a fare tutto il nostro lavoro in modo che la copia poi non vede la scena un po' sanguinolenta che abbiamo noi davanti prosegue per cui loro due stanno guardando il loro bambino noi operatori continuiamo con la chiusura dell'addome loro continuano a stare con il bambino il bambino è stato controllato dal pediatra il cordone è stato clampato tardivamente il bambino essendo al seno della mamma ha l'ostetrica anche a fianco che magari l'aiuta che sia a posizionarla ma anche se il bambino lo desidera anche a fare un attacco precoce bambino e mamma non vengono separati di conseguenza stanno insieme lì finché non finiamo tutto l'intervento finisce l'intervento allora il papà viene accompagnato in stanza e mamma e papà si prende anche il bambino insieme all'ostetrica per sistemarlo un attimino si mettono i segni mettono i braccialetti e tutto e vanno in stanza la mamma la spostano sul letto ritorna anche lei in stanza e sono tutti insieme dall'inizio alla fine della procedura cosa era la differenza sostanziale rispetto al cesareo principale cambia quell'aspetto del concetto della nascita del bambino che non è rivolto solo nascita il bambino che lo diamo alla mamma dopo averlo controllato ma l'hanno vissuto tutti e tre come una famiglia per cui mamma e papà insieme l'hanno guardato al momento della nascita da lì e poi era subito attaccato al seno della mamma e non si sono separati finché non sono tornati in stanza praticamente tutti e tre insieme è un concetto per cui molto più dolce molto un affronto questo inizio molto più dolce molto più concentrato sulla famiglia non solo sull'aspetto medico di far nassere il bambino questo è il cesareo dolce spero di averlo spiegato in modo più chiaro possibile anche se non sempre è così semplice e sono disponibile come sempre a domande non pochi ospedali ricordatevi che fanno il cesareo dolce in questa tecnica qua io ho fatto alcuni anche al mio ospedale però non è la routine perché prevede che tutta l'equipe sia pronta prevede prima di tutto che le coppie sono preparate a questo percorso prevede il fatto che accettino le coppie che guardate pati chiari se c'è una complicazione o se c'è un momento dove si sta complicando la situazione io devo far uscire il papà della stanza per cui inutile discutere a quel momento perché si tratta di complicazioni importanti da dire mi serve tranquillità però per continuare nel mio intervento per cui il papà esce dalla stanza poi chiariremo tutto ma esce dalla stanza a quell'istanza lì se il papà si sente male finora questo è sempre l'ansia di chi è dietro il paravento per cui degli anestesisti ma di solito non ok io non ho mai vissuto un papà che mi cade per terra perché è svenuto perché di solito non si vede come vi dicevo sangue così si vede il bambino appena esce della pancia per cui certo che è un po' sporco di sangue sopra la sudiamo semmai ma non una cosa una scena di sangue che si esce che è sparato sui muri e tutto è una scena molto più tranquilla finora tutte le coppie che l'hanno vissuto almeno con me l'hanno vissuto in modo bellissimo e hanno un bellissimo ricordo di questo momento ciò che altri ospedali c'è ne qualcuno che lo fa anche qui nel veronese però come vi dicevo la maggior parte dei ospedali che vi sentirete parlare di Cesaro Dolce vi diranno del Cesaro secondo Stark quando Stark è la tecnica con cui tiri fuori esegui il Cesaro ma non è quello il Cesaro Dolce il Cesaro Dolce è tutto il resto che vi ho spiegato prima per cui se qualcuno vi parla di Cesaro Dolce dovrebbe adeguarsi a questo questo concetto di papà in sala parto insieme guardano lentamente uscire il bambino bambino che non viene separato dalla mamma ma che sta con la mamma subito e che rimane con la mamma fin quasi l'uscita dalla sala operatoria e che tutti e tre devono continuare a stare insieme il covid si ha complicato la vita purtroppo perché io volevo già mettere il percorso da istituirlo come fisso diciamo per tutte le copie che lo diseravano purtroppo il covid si ha complicato la vita perché con l'imitazione che il papà non possono entrare perché devono avere i tamponi molecolari tutte queste cose qua si ha limitato parecchio e ormai faccio fatica perfino a convincere l'equip di far entrare il papà in sala parto quando prima era la routine almeno per me basta tutto qua spero di essere stato chiaro qualsiasi altra domanda sono sempre disponibili come sapete ciao a tutte